Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Samantha Togni e il marito Mario Russo sembrano essere in crisi. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti ha alimentato i rumors sulla fine del loro matrimonio. La coppia si è sposata nel 2020, dopo soli sette mesi dal primo incontro, e Samantha ha sempre parlato di un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo le nozze, la coppia si è trasferita a Dubai, ma negli ultimi mesi la Togni è tornata in Italia. Il settimanale nuovo ha sorpreso Samantha a Fregene, in vacanza con la sorella, e ha notato che alla mano della ballerina mancava l'anello nuziale. Quando le è stato chiesto della presunta crisi con Mario Russo, Samantha ha risposto con un secco no comment. Il ritorno della Togni in Italia potrebbe essere un segnale della crisi con il marito, ma lei ha sottolineato che è tornata per motivi lavorativi. A partire dal prossimo settembre, infatti, condurrà il programma Amarsi un po', istruzioni per l'uso sulla sette. La situazione tra Samantha Togni e Mario Russo rimane incerta, ma i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi. Resta da vedere se la coppia riuscirà a superare questo momento difficile o se il loro matrimonio...